È un prodotto straordinario e l'utilizzo è semplicissimo, quando vuoi il mare non piatto devi usare il blanco di marino. È un prodotto molto solito, nel senso che è una cosa molto vera. Diciamo che è nata ovviamente una nuova spezia. Sicuramente troverà applicazione in varie portate di cucina. Grazie a tutti.